In che modo è stato colpito, a quale distanza dopo l'aggressione sono stati spostati degli oggetti e soprattutto dove si trovava esattamente Irmaforte quando la mattina della vigilia di Natale ha colpito il marito Carlo Giancola su entrambi i lati della testa più volte. E' quanto i RIS stanno accertando nell'appartamento di via 25 Settembre a Santa Maria del Molise dove sono entrati per la seconda volta per effettuare rilievi, fotografare le macchie di sangue. I carabinieri del nucleo scientifico realizzeranno una mappa dell'appartamento in 3D. La planimetria servirà a localizzare l'esatta posizione del sangue presente nella camera da letto dove è avvenuto l'omicidio. Ogni singola traccia aggiungerà un ulteriore tassello alla dinamica dell'aggressione. La signora pian piano sta ricostruendo, ha bisogno di tempo, una situazione del genere, una situazione comunque molto delicata, per cui gli accertamenti ci diranno, speriamo, ci diranno quello che è avvenuto soprattutto con le tecniche ormai nuove, ormai collaudate, probabilmente ci diranno che cosa è veramente accaduto. Però noi, la persona signora, riteniamo che sia compatibile con quanto accaduto. E intanto proseguono le indagini sull'oggetto utilizzato dalla donna per colpire il marito. Da ciò che trapela, Irma Forte, la mattina del 24 dicembre, avrebbe strappato un ciocco di legno dalle mani del marito per difendersi e poi l'avrebbe colpito alla testa, prima sul lato destro, poi a sinistra. Il marito del delitto, parliamo di questo ciocco di legno, questa cosa qua, non è stata ancora rinvenuta, nel senso che questi accertamenti ci diranno, soprattutto la compatibilità con gli accertamenti, ci diranno se era quella l'arma. Riteniamo che la signora abbia raccontato la verità. È stata lei a dichiarare di aver buttato il ciocco di legno nel cammino? Ma ha fatto delle dichiarazioni su questo, ripeto, noi aspettiamo anche che questo venga accertato e anche su questo riteniamo che la signora abbia reso una dichiarazione che, ripeto ancora una volta, compatibile con quanto è avvenuto. Poi gli accertamenti che sta facendo la procura, che ricerca la verità, è giusto che sia così, ci auguriamo che portino a questo risultato, al fatto che sia compatibile quando raccontato con quello che è avvenuto, con questa tragedia che è avvenuta. Sarà l'autopsia a dire quanti colpi Irma Forte ha dato a Carlo Giancola prima di urlare che cosa ho fatto. Grazie.